che viene utilizzato spesso anche nella manipolazione ed è l'ultimo modello di questi che andiamo a vedere prima di passare a delle domande, insomma ci sono altre cose che andremo a vedere però vediamo prima questa parte che è la lettura del pensiero, la lettura della mente allora, la lettura della mente o lettura del pensiero è un modello manipolativo è un modello manipolativo che viene utilizzata la lettura della mente, allora queste, le presupposizioni ho detto, mi sembra di averlo detto la volta scorsa le presupposizioni e la lettura della mente sono due, diciamo, varianti rispetto alle generalizzazioni, deformazioni e cancellazioni e non sono conglobate in quelle mi sembra di averlo detto la volta scorsa sono due punti al di fuori, presupposizione e lettura della mente allora, la lettura della mente è molto sfruttata dal Milton Modell e rappresenta un po' una generalizzazione, uno specchio del metamodello fondamentalmente perché comprende diverse delle cose che abbiamo visto in precedenza la violazione è che chi parla sa cose, presume di sapere cose o comunque si comporta in modo tale come se sapesse delle cose che in realtà non può sapere cioè io parlo come se sapessi emozioni, sentimenti e pensieri dell'altra persona ad esempio potrei, questo al positivo e al negativo una persona potrebbe ad esempio dire in un discorso mi spiace che ti stia annoiando cioè presuppongo, in questo caso è una forma di presupposizione però di fatto è una lettura della mente perché presuppongo, diciamo, tra virgolette di conoscere la tua mente quindi ma in realtà dicendo questa frase in realtà ti porterò un po' ad annoiarti oppure se dicessi questa frase ah mi spiace che tu sia così triste se voi dite una frase di questo genere a una persona in realtà questa lettura della mente intanto come cazzo fai a sapere che io sono triste come cazzo fai a sapere che io mi sto annoiando mi stai leggendo nel pensiero e non è possibile però la cosa interessante è che io in realtà ti renderò un po' più triste o ti farò un po' annoiare perché se voi vi ricordate il linguaggio è formato da una struttura superficiale avevamo detto che sono i suoni delle parole emesse dalle persone e sì, non è detto che sia triste certo, esatto non è detto che lui sia triste perché non ci sono cioè anche se io posso presupporre posso, che ne so vedere delle espressioni di tristezza posso però di fatto andando e e questo è molto interessante se io leggo delle espressioni di tristezza ad esempio, no? quelle che abbiamo visto la volta scorsa e vado a ricalcare questa cosa diventa ancora molto più potente perché vuol dire che una parvenza o qualcosa di triste ce l'avevi dentro ma se io ti dico mi spiace che tu sia così triste beh, ti farò prendere atto del fatto che tu sia triste cioè ti etichetto praticamente e ti genererò tristezza è una presupposizione però non è una presupposizione in generale ma è una presupposizione sul quello che tu pensi o sul tuo stato mentale quindi come sia cioè una presupposizione può essere appunto Betty Kotic domani andrà a fare il corso di danza per dire bisogna vedere se Betty Kotic è viva bisogna vedere se domani ci sarà il corso di danza ma presuppone quindi delle cose esterne più o meno no? ma non sullo stato mentale e mentre invece esatto sullo stato d'animo su quello che una persona pensa ad esempio io potrei dire ah lo so che tu pensi di non potercela fare a raggiungere questo risultato se io ti dico lo so che tu pensi di non potercela fare ti farò focalizzare sul fatto che non ce la farai quindi questa cosa qua diventa una sorta di comando ipnotico praticamente e noi non ce ne non diamo neanche conto e siamo molto manipolati dalle persone che utilizzano su di noi la lettura del pensiero o la lettura della mente ad esempio potrei dire certo che se continui a pensarli in questo modo no potrei dire questo secondo me continuando a fare quello che stai facendo finirai per deprimerti ancora di più quindi sto presupponendo che tu sia depresso e che se continuerai a fare quelle cose lì ti deprimerai ancora di più questo possiamo utilizzarlo anche nel positivo anche nella seduzione ad esempio potrei dire ah mi fa piacere che tu sia innamorata di me anche questa è una presupposizione è una presupposizione ma è una lettura del pensiero però in questo caso ti farò focalizzare l'attenzione sul fatto che tu sia innamorata di me è ovvio che se lo dico a uno che ogni volta che mi vede va indietro raschia e si gratta la testa beh diciamo avrà un effetto molto minore se non un effetto distonico ma se lo dico a una persona che magari mi fa un linguino o mi dà un segnale diciamo di gradimento vado a potenziare molto perché vado a fare un ricalco inconscio praticamente quindi ah mi fa molto piacere che tu ti stia innamorando di me o che tu ti sia innamorata di me quindi in questo caso vado a ricalcare e come se diciamo andassi a facilitare il processo di innamoramento perché la persona deve passare da quello che io dico che è la struttura superficiale alla struttura profonda che è il significato che è il significato diciamo che è il significato che la persona attribuisce diciamo al al fatto di innamorarsi è chiaro? quindi come si effettua la lettura della mente si dice quello che noi vogliamo ottenere dalla persona lo diciamo come se fosse un suo pensiero cioè quello che noi vogliamo ottenere dalla persona lo diciamo come se fosse già vero e fosse un suo pensiero come se lui l'avesse pensato potrei dire ah mi fa piacere che hai deciso di comprare questa questa enciclopedia no? magari tu non l'hai deciso però io ti facilito no? perché l'altra persona andrà un po' in confusione quando l'avete ci dice ah mi fa piacere che abbia scelto di fare di acquistare questo oggetto che possa essere qualunque cosa magari lui non aveva ancora deciso ma se aveva notato il venditore dei segnali di gradimento dicendogli mi fa piacere che lei abbia deciso poi alla fine di acquistare questa cosa vado ad accelerare il processo di acquisto fondamentalmente ed è una diciamo è un qualcosa beh di solito le persone se viene fatta bene si l'accettano perché perché diciamo l'accettano perché tendono ad accettarla perché diventa un comando un comando ipnotico invece prendo esempio l'esempio che ha fatto Stella Marina perché come al solito come al solito Stella Marina non capisce non capisce mai niente e quindi Stella Marina fa sempre gli esempi sbagliati perché Stella Marina io posso parlare ma lei non capisce mai niente e tutte le volte fa sempre gli esempi sbagliati perché adesso ho fatto l'esempio con la frase che ha detto Stella Marina ho usato un quantificatore universale diversi quantificatori universali che è l'esempio di prima però l'esempio che ha fatto Stella Marina è veramente sbagliato perché lei mi fa piacere che mi hai comprato la macchina nuova e no perché mi hai comprato la macchina nuova è un'azione noi non possiamo ricalcare un'azione non possiamo ricalcare un'azione perché se lui la macchina non te l'ha comprata non puoi ricalcare un'azione bisogna ricalcare un pensiero ah mi fa piacere che stai pensando di comprarmi la macchina nuova allora questa è una lettura del pensiero perché è ovvio che io non posso dire mi fa piacere che mi hai comprato la macchina ma se quella la macchina non me l'ha comprata quindi è la lettura del pensiero non la lettura delle cose che una cosa ha fatto è chiaro no oppure mi fa piacere che hai deciso di comprarmi la macchina nuova certo che hai deciso di che hai pensato di questa è una lettura del pensiero non di un'azione conclamata no perché il pensiero non può saperlo nessuno fondamentalmente mentre le azioni conclamate le persone possono saperle e quindi spesso le persone tendono ad accettarlo ovviamente viene accettata molto di più la lettura del pensiero se se ci sono diciamo viene accettata molto di più la lettura del pensiero se come possiamo dire ci sono dei segnali di gradimento o se abbiamo notato un'indecisione della persona no può essere quella molla che fa passare dall'indecisione alla decisione e comunque è veramente estremamente manipolativa no adesso poi vedremo ma oramai vedo che sono le 19 15 quindi la prossima volta vedremo i tre passaggi fondamentali per poter usare in modo naturale il metamodello che sono queste violazioni quindi usarle e sfruttare un altro strumento che è lo strumento delle domande utili quindi ci concentreremo poi sulla scelta delle migliori domande da proporre al nostro interlocutore per aiutarlo a riempire gli spazi vuoti della sua mappa quindi siccome la mappa del mondo di ogni persona ha degli spazi vuoti noi attraverso delle domande guidate possiamo indirizzarlo su una scelta piuttosto che su un'altra ed è uno strumento molto potente è comunque quello delle domande che poi rientra per certi versi nelle domande ipnotiche che poi diventano dei comandi ipnotici quindi ci sono tre passaggi fondamentali per utilizzare diciamo questo metamodello in modo naturale spontaneo durante una conversazione e vedremo anche le domande che dobbiamo proporre per ottenere questi risultati e vedremo anche